Buonasera, buonasera e bentornati. Sono passate da pochissimo le 17.15, sono le 17.17 e oggi andiamo a raccontarci un paio di cosette appunto a riguardo delle scelte di Camera e Senato che hanno scatenato, se volete, un po' di indignazione. Come sapete questa è una sorta di rassegna stampa, in verità sono le cose che più mi hanno interessato durante la settimana e di cui vi volevo parlare e quindi io partirei brevemente salutando chi è che ci sta seguendo, siete sempre tantissimi, quindi vi ringrazio davvero. Per chi fosse nuovo questa rassegna funziona più o meno così, io parlo per una decina di minuti, spero anche di meno, sono 6-7 blocchi a seconda di e poi lascio spazio a eventuali vostre considerazioni, parliamo un attimo. Buonasera intanto Fabio Zaglio e poi dopo andiamo da Ivan. Bene, io partirei dalla questione di Camera e Senato, no? Perché Camera e Senato sono importanti oggi a mio avviso personale? Sono importanti perché ci devono far riflettere su alcuni concetti a riguardo della politica italiana. In particolare ieri, per chi segue in diretta o eventualmente qualche giorno fa per chi recupererà indifferita questa puntata, ecco abbiamo eletto, perché l'abbiamo fatto tutti attraverso i nostri rappresentanti al Parlamento italiano, Ignazio Larussa come Presidente del Senato. E invece oggi, per chi sta seguendo sempre in diretta, abbiamo eletto Fontana, da non confondere con il governatore di questa regione, perché io trasmetto dalla Lombardia, ecco abbiamo eletto Fontana come Presidente della Camera. Ho visto moltissima indignazione in giro e volevo dare giusto il mio parere non richiesto come al solito e se noi andiamo a vedere chi c'era prima di queste due persone, ovvero Fico e la Casellati, vediamo che c'era una scelta che per quanto populista, Fico perché appunto rappresentava questa scatoletta di tonno che andava aperta, il Parlamento, e se volete anche la scelta non assolutamente non neorealistica, mi verrebbe da dire, ma preferi scusare la parola non nepotistica della Casellati, ecco quantomeno lì si sceglievano due figure, una di chi aveva vinto moralmente quelle elezioni e invece diciamo un'altra figura che era un po' l'antagonista del Movimento 5 Stelle, ovvero una figura vicina a Silvio Berlusconi. Questo per mantenere i poteri in equilibrio, no? e c'era una sorta di richiamo alla Prima Repubblica che era, diciamo, normalmente vedeva la democrazia cristiana dare comunque un seggio rilevante a, diciamo, ad altri partiti e non tenersi tutti i seggi per sé. Questo anche in ottica di democraticità, se volete, del Parlamento. Però sta di fatto che invece assistiamo a una scelta che va a disegnare delle figure completamente di destra, sia alla Camera che al Senato, che a me personalmente non è che faccia caldo o freddo, semplicemente mi fa riflettere sulle particolari interdipendenze che si stanno creando all'interno dei partiti. Ma la cosa che mi fa abbastanza sorridere è il fatto che molti si siano indignati perché probabilmente Ignazio Larussa è stato eletto grazie al supporto delle forze esterne alla maggioranza di destra, sempre che ci sia una maggioranza destra al Senato. Qua è una bella lotta, volendo guardare, e probabilmente questa maggioranza sta dando dei segni di quantomeno divisionismo iniziale. Cioè si sta litigando per le cariche che, diciamo, possono essere ancora distribuite all'interno del Consiglio dei Ministri. Però è interessante notare che alcune forze di opposizione si siano già messe al servizio di Giorgia Menoni. Io adesso non voglio accusare il Terzo Polo, Renzi, Maie, oppure Sud Chiamanord, oppure altri partiti politici, che secondo Pagella Politica o secondo anche altre, diciamo, testate giornalistiche o comunque siti di informazione avrebbero prestato dei voti, appunto, a Giorgia Menoni. Non si vuole accusare. Però vi faccio riflettere sul fatto che, appunto, venendo meno questo fatto di democraticità all'interno delle istituzioni, appunto, del Presidente della Camera e del Presidente del Senato, potrebbe essere interessante cercare di capire a chi andranno altre posizioni, come ad esempio quella del Copasir. Cioè, essendo che noi ormai viviamo in un mondo politico, almeno, che non è diviso in due poli, destra o sinistra, ma piuttosto è composto da più poli. Abbiamo quello di destra, abbiamo quello di sinistra, abbiamo quello del centro, abbiamo quello del Movimento 5 Stelle. E abbiamo quindi tre poli all'opposizione di questa destra. Ecco, sarà interessante capire a chi andranno queste figure di garanzia, come ad esempio quella del Copasir. E quindi io suggerisco ai terzopollisti, chiamiamoli così, che si stanno indignando perché Renzi ha supportato Ignazio Larussa, eventualmente, sempre che questa sia un'accusa vera, ecco, suggerirei di non guardare il dito, ma probabilmente di guardare alla luna e non farla, diciamo, far la fina dello stolto. Non facciamo gli stolti. Ma piuttosto, se Renzi dovesse portarsi a casa il Copasir, o un'altra figura di garanzia, ecco che potremmo aver capito chi sta facendo realmente opposizione e chi invece sta semplicemente gridando al fascismo. E io ho il sospetto, ho il sospetto che il Partito Democratico ci delizierà, così come la destra ci aveva deliziato, di una, se volete, un'opposizione estremamente ideologica. La destra, durante appunto il decennio, che potremmo identificare come quello che va dal 2013 al 2022, ci ha insegnato che il populismo e l'ideologismo sono ottime armi per ottenere consenso e io credo che il PD, a seguito appunto di questa interpretazione, sicuramente fallacea, sicuramente sbagliata, ecco io credo che il PD continuerà con questo scegli. Destra, sinistra, sopra, centro, a fianco, fascisti, non fascisti. Quindi si inizieranno a fare queste bellissime e comiche, sotto certi punti di vista, liste di proscrizione fra chi è buono e chi è cattivo. Questo secondo me avverrà nel prossimo futuro. Poi vedremo appunto se ripagherà questa scelta nei sondaggi e soprattutto vedremo se la mia speculazione, almeno inizialmente, sarà corretta. Sta di fatto, sta di fatto, che il PD non mi pare voglia fare autocritica. Se avesse voluto fare autocritica, avrebbe disegnato come candidato, come possibile candidato quantomeno, una figura importante al posto di Ignazio Larussa. Potevano ad esempio scegliere di mettere il nome di Liliana Segre, ad esempio, sulla scheda. Tanto loro non avevano i numeri per proporre qualcuno. Ma se veramente c'è tutto questo fascismo, perché non dare, se volete, una linea di indirizzo? Quindi può essere che probabilmente non ci sia veramente tutto questo fascismo o probabilmente che questa accusa sia, come dire, molto ideologizzata e poco ancorata sui fatti? Quindi, punto di domanda, probabilmente mi sbaglio anche su questo punto. Ma dopo di che, dopo di che mi verrebbe da dire, ma su Fontana, il PD, cosa si lamenta esattamente? Fontana era il ministro del governo Conte I, Conte che appunto è stato disegnato come leader dei progressisti, fino a praticamente 3-4 mesi fa. Quindi direi proprio che il PD, questo Fontana, non so come faccia a criticarlo. Non lo so proprio. Soprattutto alla luce del fatto che il DDL-ZAN non è passato non per non volontà degli altri, ma per non volontà dello stesso Partito Democratico. Boh! Vi ricordo anche che è lo stesso Partito Democratico che non è intervenuto, ad esempio, sui decreti sicurezza, quando ne aveva l'occasione. È intervenuto con estremo ritardo. Vi ricordo inoltre che sempre Fico, che faceva parte del Movimento 5 Stelle, che era un alleato importantissimo per questo aumento del progressismo in Italia, Fico non ha mai preso in esame le questioni cannabis ed eutanasia. Sempre lo stesso Partito Democratico è quello che sui referendum cannabis e eutanasia non ha mostrato alcun supporto, se non alla fine. Quindi, 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 non voglio assolutamente insegnare al Partito Democratico come si fa opposizione, ma figurarsi, io sono un povero contribuente e loro sono sicuramente la leadership di questo paese, no? O lo erano, quantomeno. Però mi verrebbe da dire che bisognerebbe iniziare a tirare i rimi in barca quando si inizia a parlare di fascismo, perché probabilmente partiamo un po' sconfitti, mi verrebbe da dire. E io onestamente spero che nasca una certa opposizione di qualità. Ma sapete perché? Non tanto perché mi interessa del PD, quanto perché mi interesserebbe vedere una destra molto più seria alla guida di questo paese, non la destra sovranista, meloniana e quant'altro, ma un progetto, se volete, di destra europea, come può essere appunto quella impersonificata da Ruth. Quindi per quello che magari mi agito un pochino vedo un'occasione mancata, perché credo, credo, che è dalle, diciamo, da un'opposizione basata sui fatti, che possa nascere appunto poi una guida basata sui fatti. Staremo a vedere, magari la Meloni ci sorprende ed è la più tecnica di tutti. Sta di fatto che fino adesso io non vedo elementi interessanti su cui dire cavolo, questo Partito Democratico ha fatto autocritica e inizia a muoversi. No, io vedo semplicemente delle oche che starnazzano. Al netto del fatto che i discorsi di Fontana e Gnazola Russa mi sono sembrati veramente dei discorsi da bambini della terza asilo. In particolare quello di Gnazola Russa, adesso non bambino della terza asilo, ma come ho già detto con Valeria Fedeli, mi sembrava davvero il discorso della triennale, di conclusione della triennale. Invece quello di Fontana mi sembrava la predica del parroco. E onestamente se voglio sentirmi la predica, come diceva Don Rodrigo, vado a messa. Sicuramente non vado in altri luoghi, come ad esempio la Camera dei Deputati. Se ti piace quello che facciamo, ti ricordo che con Patreon puoi sostenere la nostra opera di divulgazione. Ma perché sostenerci? Se i nostri video ti sono stati utili almeno una volta a comprendere il mondo dell'economia, il tuo sostegno non farà morire il progetto. Progetto che ha dei costi. E per far fronte a questi costi, il supporto della community è fondamentale. Ovviamente con l'abbonamento ti saremo riconoscenti, ma non solo, perché con Patreon potrai accedere a video senza pubblicità, anticipazioni dietro le quinte, con il one to one e altri servizi. Infine, perché manteniamo ciò che promettiamo. Con le donazioni finora ricevute abbiamo sempre migliorato la qualità dei contenuti. Basta guardare solo i video di fine 2021 per rendersene conto. Grazie mille a tutti quelli che ci stanno sostenendo su Patreon e grazie anche a te che deciderai di sostenere il nostro progetto con un abbonamento. Grazie mille a tutti.